Nel pomeriggio i funerali di Raffaele Manna, il 32enne di Scafati morto pochi giorni fa in seguito ad un incidente stradale avvenuto la notte di Ferragosto. La salma di Raffaele è giunta a casa Manna in via Berardinette alle 11 di questa mattina, alle 16 rito funebre nella parrocchia di San Pietro Apostolo. In tanti, in queste ore, stanno rendendo l'ultimo saluto al giovane personal trainer di Scafati. Tra questi anche il padre della piccola Miriam Corsini, la bambina affetta da cardiopatia congenita complessa che dovrà subire una costosa operazione. Raffaele era apprezzato per il suo buon cuore e per la sua grande disponibilità. Da qualche tempo aveva deciso di avviare una raccolta fondi da devolvere a Miriam. La famiglia di Raffaele ha continuato a sposare appieno la raccolta fondi e la gara di solidarietà per la piccola, a supporto di Miriam, anche altre iniziative. Una cena di beneficenza di scena domani presso il Chiostro di San Francesco a Cava ed una partita di campionato tra per San Marzano e Sarnese questo sabato. È stato un grande gesto di solidarietà da parte della famiglia del nostro Raffaele. Oggi ricordiamo Raffaele e la giornata dei suoi funerali. Sono molto emozionato perché veramente mi ha aperto una ferita al cuore sapere la notizia della sua scomparsa e poi questo gesto di solidarietà legato alla causa di Miriam. La raccolta fondi sta andando molto bene. Abbiamo raccolto circa 55.000 euro, quindi c'è stato un grande coinvolgimento da parte di tutti gli amici nella città di Cava, di Pagani, agronocerino e sarnese.